Buon pomeriggio e ben trovati allo stadio comunale di Pian Castagnaio dove oggi andrà in scena il match tra Pianese e il mobiliare Ponsacco valido per la 25esima giornata di Serie D Girone il più classico dei testa coda in partita capolista Pianese incontra il Ponsacco che si trova in fondo alla classifica però in una partita sicuramente ostica e non da sottovalutare Claudio ti chiedo subito il commento su cosa pensi di questa partita Buonasera a tutti è una partita delicata la Pianese non si può permettere di perdere e loro non si possono permettere di perdere perché io credo che sia una bella partita lottata da ambo le parti e infatti va direttamente in mezzo verso Proietto poi ancora Remi per Mignani poi la crema è lì che occasione ha avuto le donne sbaglia questo neanche dal dischetto del rigore dall'aria piccola fischio adesso parte le donne con il destro porta rinvia Fontanelli troppo centrale bella qua la palla Remi poi Remi gran giocata di Remi sulla linea cross di Remi cross in mezzo mamma mia ci ha messo la testa in qualche modo Mastro Pietro che attenzione poi bella l'idea per Miccoli ancora le donne si danno fastidio lo porto ha tolto la palla dal destro di le donne che poteva battere a rete occasionissima per la Pianese sai ma in velocità in quel modo non è facile praticamente entrambi hanno fatto lo stesso movimento è un po' confusa non ci sono spazi trovato forse le donne mette in mezzo insidioso poi Mastro Pietro in scivolata qua Montanelli è stato un po' leggero Montanelli ha sbagliato l'intervento si ha giocato l'intervento palla è arrivata a Mastro Pietro ma era era in corsa non era facile Nieri riesce a tenerla in gioco ancora Nieri entra in aria Nieri 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 sinistro Nieri con occasione Nieri ha fatto una grossissima bravissima non riesce a tenere questo pallone ancora però lo porto può metterla in mezzo bella traversone sul secondo Rimini di testa Rimini di testa sembra quasi un po' lungo in porta Panettoni che tiene palla è cercato di fare il tunnel è però innocenti innocenti allarga dall'altra parte Borselli tirò dentro rete del Ponzacco clamoroso il Ponzacco all'ultimo minuto ha trovato i tre punti Borselli Borselli a tempo preinte scaduto clamoroso il Ponzacco fa il colpaccio in casa della Chianese è finita il Ponzacco sbanca al comunale vince per 1-0 gol che è arrivato al 95esimo Claudio il calcio come ripeto è questo qui se te sbagli dei gol facili due gol la Pianese proprio ha acciccato e poi alla fine dei salmi il gol lo prendi non ti devi recriminare niente perché attacca è attaccato però i tiri sullo specchio della porta del Ponzacco il portiere non è che ha fatto grandi parate non ha fatto una partita destinata così loro sono stati bravi a coprire tutte le parti del campo non credevo io che reggessero per 90 minuti quel ritmo però complimenti al Ponzacco complimenti all'allenatore e forza Pianese che domenica domenica si decide credo che la Pianese domenica se giocheranno tutti non si devono demoralizzare con Livorno possano anche fare una bella partita